Dottoressa Fumagalli, di cosa tratta la nuova etichetta energetica dell'illuminazione? Allora, Simonetta Fumagalli Enea, dunque la nuova etichetta per l'illuminazione parla di lampade, parla di apparecchi di illuminazione. Quella vecchia, che esisteva già da un po' di anni, si riferiva soprattutto a lampade per uso domestico e lampade fluorescenti lineare in pratica. Quella nuova si estende a tutte le lampade, quindi anche scarica ad alta intensità, led, eccetera. E poi esiste un'etichetta degli apparecchi di illuminazione che si riferisce non tanto alle prestazioni dell'apparecchio stesso, quanto al tipo di lampada che è possibile montare dentro l'apparecchio stesso. Grazie Grazie